Gioco tennis a picco dai nove anni. Quindi hai una carriera abbastanza lunga. Valentino, qual è stato il tuo torneo migliore? Qual è la tua classifica attualmente? E qual è il punto più alto che hai raggiunto in classifica? Sono arrivato a vincere un future un paio di anni fa, nel 2014. Sono stato 560 dal mondo. Poi ho smesso da un paio di anni per un'infortunio alla spalla. Adesso non sto giocando più tornei internazionali. Valentino, qual è il tuo circolo di riferimento qua in Italia? Io gioco squadre per il CT Bari. Sto a Vito là. Valentino, qual è il tuo tennista di riferimento? Se ce l'hai, ovviamente. Quando ero piccolo più che altro mi piaceva tanto Ghisciamo Coria e Ghisciamo Cagna. Due tennisti molto diversi argentini. Che erano i miei idoli da piccolo. Tu invece che tipo di tennista sei? Che gioco fai quando sei in campo? Sono un giocatore intenso che gioco di controattacco. Come ti stai trovando in questo torneo? Come ti stai trovando in questa struttura che ti ospita il country sport? C'è una bellissima struttura, campi coperti, fissi, bellissimi. Sono anche veloci. Non mi aspettavo così tanto veloci i campi. Ma mi sto trovando benissimo. Aspettiamo adesso tra un po' che gioca la semifinale. Valentin, dove ti vedi fra cinque anni e come pensi che sarà il tennis tra cinque anni in Italia? No, io ho cominciato a fare il maestro. Comunque in cinque anni spero di essere un migliore maestro ancora. Niente, secondo me il tennis è sempre più rapido, sempre più... In crescita. Sì, in crescita. Sale la velocità sempre, secondo me. Valentin, il tennis per te in una parola? La mia vita. La mia vita.